Se il Mondiale di Imola è stato frutto di una condizione eccellente di una stagione schiacciata su tre mesi, il trionfo di Bruges che ha vestito Filippo Ganna con l'iride della cronometro per la seconda volta consecutiva è stato invece frutto di una parolina magica, programmazione. Sì, perché nel ciclismo attuale i grandi obiettivi vanno selezionati e ci si prepara di conseguenza per ottenere il massimo. Lo ha spiegato il commissario tecnico Davide Cassani che domenica, al termine della gara in linea, lascerà l'incarico, rispedendo al mittente anche qualche polemicuccia. Il CT ha detto che l'avvicinamento alla crono mondiale di Pippo Nostro è stato concertato da lui stesso, insieme ai tecnici di settore Crono, Marco Velo e Marco Villa, non ultimo Dario David Cioni, suo preparatore alla Ineos Grenadier. A decca dei tecnici, dopo l'oro olimpico ed un periodo in altura al Montemoro, il Vignonese ha aveva bisogno di una settimana faticosa ed è per questo che all'europeo ha corso tutte le prove. Abbiamo ricevuto tante critiche, ha detto Cassani, molti a dire che fu un errore fargli fare la staffetta prima della crono individuale che avrebbe potuto vincere. Velo, Villa, Cioni ed io sapevamo però come approcciare il mondiale con un gun al top. Abbiamo sacrificato un europeo perché dopo i giochi olimpici era l'unica soluzione. Non si può vincere tutto, ma con Filippo Ganna, studiando bene, si vince il meglio. Eccolo il segreto. Il mirino era puntato sul mondiale ed il mondiale è arrivato chiudendo al secondo posto la crona europea. Come in precedenza è arrivata la maglia rosa al giro a dispetto di alcune sconfitte precedenti. È arrivato l'oro olimpico a dispetto di un tricolore perso. È il ciclismo moderno, bellezza, si potrebbe dire citando una celebre battuta cinematografica. Oggi, a 25 anni con quattro titoli mondiali in pista, due su strada, un oro olimpico e qualche titolo europeo, senza contare il resto, Filippo Ganna è già il più grande sportivo mai avuto dal VCO? Ai posteri, larga sentenza. Lui intanto mercoledì corre la staffetta e chissà che non arrivi altro metallo pesante. Domani intanto tocca a Francesca Varale nella crona donna junior, senza veleità di podio. Per quelle ci si penserà nella garellina di sabato.